Conte firma il nuovo decreto in vigore da domani, chiusure anticipate per bar e ristoranti. 82 nuovi casi di coronavirus nelle Marche, 5 a Pesaro in quarantena, due classi del Benelli. Giunta a Quaroli, manca solo l'ufficialità per i nomi dei nuovi assessori regionali. Domani a Pesaro l'undicesima tappa del Giro d'Italia, diverse le modifiche alla viabilità. Benvenuti al nostro telegiornale. In questo martedì 13 ottobre lo apriamo parlando subito del decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte contenente le nuove misure di sicurezza per contrastare il contagio da Covid-19 che saranno poi in vigore fino al prossimo 13 novembre. Ce ne parla meglio in modo dettagliato in questo primo servizio di Daniele Romagna. È stato firmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il DPCM contenente le nuove misure di sicurezza per prevenire il contagio dal Covid-19. Le misure, illustrate dal Premier a Regioni e Comuni in videoconferenza, entreranno in vigore da domani e saranno valide fino al prossimo 13 novembre. Tra le principali novità introdotte risulta esserci la chiusura fissata a mezzanotte per bar e ristoranti e il divieto per i clienti, a partire dalle ore 21, di consumare cibo o bevande in piedi o di sostare fuori dai locali. I ristoratori potranno infatti continuare a servire soltanto le persone sedute ai tavoli. Rimane inoltre consentita per questa attività la modalità di consegna a domicilio o d'asporto. Per quanto riguarda la Movida e il conseguente rischio di creare assembramenti, sarà vietato organizzare feste private al chiuso o all'aperto, mentre è stata indicata come forte raccomandazione quella di non ricevere all'interno della propria abitazione più di sei familiari o amici non conviventi. Confermato invece lo svolgimento delle cerimonie civili e religiose, mentre per le feste conseguenti è stato fissato un numero massimo di 30 persone che vi potranno partecipare. L'articolo 1 del nuovo DPCM è dedicato al tema mascherine. Sull'intero territorio nazionale sarà necessario avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuali, con l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, eccezione fatta per tutti quegli spazi che garantiscono la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Dall'obbligo di utilizzo della mascherina è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso del dispositivo. Viene inoltre fortemente raccomandato l'utilizzo delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche all'aperto o al chiuso, mentre è permesso lo svolgimento di fiere e congressi. Con le nuove misure si torna a parlare anche di scuola. È stata infatti bocciata l'ipotesi di adozione della didattica a distanza per gli istituti superiori e dunque restano confermate le lezioni in presenza. Con l'introduzione di questo DPCM saranno invece sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio e le uscite didattiche programmate dalle scuole di ogni ordine e grado. Altro nodo affrontato dal nuovo decreto riguarda la presenza del pubblico per gli spettacoli di vario genere, come ad esempio i concerti. Il limite fissato dal governo è di 200 partecipanti in spazi chiusi, mentre sale a mille nel caso in cui le manifestazioni avvengano all'aperto, rispettando come sempre il vincolo che impone la distanza di un metro tra un posto e l'altro. In questo caso però le regioni e le province, in accordo con il Ministero della Salute, potranno stabilire numeri di spettatori diversi da quelli previsti dal governo in base alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi in cui si svolgeranno gli eventi. Destino simile anche per il pubblico delle competizioni sportive. La presenza di tifosi potrà essere del 15% rispetto alla capienza totale di stadio-palazzetti, non superando comunque i 1000 spettatori per le strutture all'aperto e i 200 per quelli al chiuso. Sempre per quanto riguarda il mondo sportivo, scattano i divieti per lo svolgimento degli sport di contatto con carattere amatoriale, come ad esempio il calcetto. Proprio l'attività degli sport di contatto sarà consentita unicamente da parte delle società professionistiche a livello agonistico e di base e dalle associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP. Ed ora la consueta pagina con gli aggiornamenti e i numeri riguardanti il coronavirus nel nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marchi ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1525 tamponi, 894 nel percorso nuove diagnosi, 631 nel percorso guariti. I positivi sono 82 nel percorso nuove diagnosi e di questi casi appartenenti alla provincia di Pesaro Urbino sono 5. Sempre a Pesaro però sono 37 i ragazzi che compongono due classi prime dell'Istituto Benelli che sono state poste in quarantena dopo che una studentessa è risultata positiva al Covid e ha manifestato i sintomi tipici del virus. Insieme ai ragazzi ad essere sottoposti a isolamento fiduciario fino al prossimo 23 ottobre anche 18 insegnanti e due collaboratori ATA. In primo piano questa sera anche la politica perché sembra essere terminato il lavoro del neo governatore Francesco Acquaroli per la composizione della nuova giunta regionale. In attesa che arrivi l'ufficialità proprio dalla Regione Marche in questo prossimo servizio sentiamo i probabili nomi dei nuovi assessori e non solo. E alle battute finali la composizione del nuovo governo regionale. Per avere la certezza sui nomi che andranno a ricoprire i vari assessorati bisognerà però attendere l'ufficialità che arriverà soltanto al termine del summit previsto oggi a Roma tra il neo governatore Francesco Acquaroli e i segretari regionali dei partiti di maggioranza. Tre poltrone per la Lega, due per Fratelli d'Italia, una per Forza Italia. Per Civici e Udc invece sono previsti ruoli chiave tra cui la presidenza nell'assemblea legislativa. Per la Lega il primo nome che andrebbe a comporre la giunta Acquaroli è quello del fanese Mirko Carloni. Il consigliere uscente andrebbe a ricoprire l'incarico di vicepresidente e di assessore alle attività produttive. Filippo Salta Martini, sindaco di Cingoli ed ex parlamentare, sarebbe pronto per guidare uno degli assessorati più complicati in questo periodo storico, ovvero quello della sanità, mentre Daniela Tisi, unica quota rosa della probabile squadra di governo, si occuperebbe di cultura e turismo. In Casa Fratelli d'Italia, per Guido Castelli, ex consigliere regionale e sindaco di Ascoli, sarebbe previsto l'assessorato al bilancio e in qualità di rappresentante di giunta si occuperebbe da vicino della ricostruzione post-sisma. Al partito di Giorgia Meloni andrebbe anche l'assessorato all'agricoltura. In pol per la guida, Francesco Baldelli, ex sindaco di Pergola. La poltrona di Forza Italia invece ricadrebbe sull'importante comparto dei trasporti e delle infrastrutture, alla cui guida andrebbe l'ex consigliere regionale Daniele Silvetti. La squadra di Acquaroli si chiuderebbe infine con la nomina del rappresentante Udc Dino Latini, sindaco di Osimo ed ex consigliere, per la presidenza del consiglio regionale. Non si parla però solo di giunta, con le nomine annunciate fin qui infatti andrebbero riassegnati anche alcuni seggi del consiglio regionale. Tra quelli che interessano la provincia pesarese, al posto del leghista Carloni sarebbe pronto ad entrare il ferminianese ed ex presidente di Urbino Servizi, Giorgio Cancellieri. Mentre tra le fila di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale di Pesaro ed ex candidato sindaco Nicola Baiocchi subentrerebbe a Francesco Baldelli. Non resta quindi che attendere le prossime ore per conoscere la composizione ufficiale del nuovo governo regionale. Ed ora gli eventi e gli appuntamenti per la giornata di domani. Il centotresimo Giro d'Italia per la sua undicesima tappa passerà domani a Pesaro. Un appuntamento tanto atteso da tutti gli appassionati della storica manifestazione. La cui organizzazione però ha chiesto diverse modifiche chiaramente alla viabilità cittadina che partiranno proprio da domani mattina. Le sentiamo in questo prossimo servizio. Pesaro si prepara ad accogliere il centotresimo Giro d'Italia. La carovana rosa passerà in città domani, mercoledì 14 ottobre, in occasione dell'undicesima tappa, che partirà da Porto Sant'Elpidio per proseguire poi fino a Rimini. Il passaggio del Giro porterà diverse modifiche per la viabilità cittadina. Le limitazioni interesseranno soprattutto la strada statale, che sarà chiusa dalle 11.15 fino alle 15 circa. La strada rimarrà però sempre attraversabile grazie ai sottopassi di Via Canale e Via La Marca. A Baiaflaminia invece verrà installato un senso unico alternato, vigilato dalla polizia locale, all'altezza della rotatoria Lungofoglia delle Nazioni, Caboto. Il passaggio ufficiale del Giro è previsto intorno alle 14.30 e il percorso interesserà strada Marina Ardizia, strada delle Marche, viale della Vittoria, viale Fiume, via Mameli, largo Tre Martiri, Lungofoglia Caboto, strada Panoramica San Bartolo, strada di Fiorenzuola di Focara e la statale 16 in località Siligata, Colombarone e Gabicemare. I centri per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado di Pesaro saranno tutte raggiungibili utilizzando i sottopassi di Via Canale e Via La Marca. Per quanto riguarda invece gli istituti superiori, solo il Santa Marta si trova direttamente sul percorso di gara. In questo caso fino alle 15.30 non sarà possibile per gli autobus andare in direzione nord, mentre la direzione sud sarà riaperta presumibilmente intorno alle ore 15. Questa limitazione interessa a tutti gli studenti provenienti da Fano, Gabicce, Cattolica e altre località limitrofe. Per omaggiare il passaggio del Giro d'Italia nel nostro territorio, al Centro Arte Visive Pescheria è stata inaugurata questo pomeriggio la mostra Pesaro Saluta il 2020, La Storia della Corsa Rosa. L'esposizione, visitabile fino al 18 ottobre, presenta circa 60 biciclette da corsa dei grandi campioni del pedale costruite dal 1900 fino ad oggi. Una nuova sede per il Centro di Ascolto Passaparola, servizio storico delle politiche sociali, che si sposta di poche centinaia di metri dal campus all'interno della Biblioteca delle Cinque Torri, sede del secondo quartiere. Ce ne parlano nelle prossime interviste l'assessore Mila della Dora ed il coordinatore dell'ambito territoriale e sociale di Pesaro, Roberto Drago. È un servizio attivo nel nostro territorio da oltre 25 anni, un supporto psicologico importante non solamente per i ragazzi ma anche per le famiglie. È un servizio richiesto perché sono cambiate anche le esigenze dei ragazzi e poi abbiamo visto che si è abbassata anche la fascia di età dei ragazzi che cercano questo tipo di consulenza. Come cambia quindi adesso il lavoro con il nuovo centro e anche quante psicologhe appunto saranno attive all'interno del centro? Allora, le psicologhe attive sono tre e il centro si è spostato di poco rispetto a dove era collocato prima ma la scelta è stata strategica appunto perché l'utenza prevalentemente è quella del campo scolastico e quindi non volevamo far allontanare troppo i ragazzi che eventualmente avevano necessità di questo tipo di servizio. Sicuramente adesso ci sarà la necessità a causa Covid di telefonare, di prenotare, di contattare, quindi cambieranno le modalità ma sicuramente non il servizio e la qualità offerta. Da una parte apriamo ma da una parte siamo usciti perché questo servizio da anni lavorava all'interno del campus scolastico. Quest'anno a causa logicamente della situazione logistica in cui le scuole hanno avuto bisogno di più spazi per le aule siamo riusciti a trovare grazie alla biblioteca della circoscrizione Cinque Torri uno spazio vicino alle scuole dove continuare questo luogo d'ascolto. Ripeto, perché è importante in questo periodo? Perché noi non sappiamo bene qual è stato l'impatto sui nostri giovani ma anche sul mondo adulto rispetto alla questione Covid, al lockdown e stavo riflettendo che due delle situazioni che più spesso le nostre psicologhe vedevano erano il ritiro sociale dei giovani e spesso crisi d'ansia fino ad arrivare a crisi di panico. Bene, questa situazione, queste situazioni come stanno evolvendo? Si stanno moltiplicando? Molti giovani hanno ritrovato nella loro casa, nella chiusura della loro casa una tana dove rinchiudersi? Oppure il Covid ha fatto esprimere delle potenzialità nei nostri giovani che noi non conosciamo? Ecco, vorremmo accompagnare i nostri studenti, i loro professori e le loro famiglie in questo percorso di sostegno. Nella seduta del Consiglio Comunale di Pesaro che si è tenuta proprio ieri pomeriggio è arrivato l'ok dall'assise per l'approvazione del nuovo regolamento relativo alla detassazione di tutti i tributi per le attività che apriranno a Pesaro nei prossimi tre anni. Il Consiglio ha inoltre approvato la variazione di bilancio di previsione 2020-2022 che tra le modifiche presentava l'inserimento di 65 mila euro a favore dei dispositivi personali anti-Covid per le scuole dell'infanzia e asili nidi. L'arte e la poesia di Carlo Pagnini hanno riempito questa mattina all'Aula del Consiglio Comunale dove il celebre poeta dialettale pesarese dopo aver omaggiato la giunta dei suoi ultimi due libri pubblicati ne ha letto stralci coinvolgenti e divertenti. Stanno per arrivare in scena al Teatro Rossini i primi due spettacoli della 73esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica. Giovedì 15 ottobre alle ore 21 si alzerà il sipario sulla rassegna con il tavolo verde rappresentazione della compagnia teatrale Maschere Opera. Venerdì 16 invece sempre alle ore 21 sarà la volta delle mirabolanti fortune di Arlecchino e peripezie dei comici dell'arte del gruppo teatrale La Trappola di Vicenza. E venerdì sera al Gallo di Petriano arriva una serata molto speciale ci saranno tanti ospiti per parlare di tematiche che toccano la disabilità e soprattutto anche il mondo giovanile. Abbiamo qualche anticipazione di questo evento che avrò il piacere tra l'altro di condurre con Barbara Selva direttamente dalla Proloco di Petriano. Vediamo. Una serata speciale chiamata speciale proprio per la realizzazione e per la presenza delle persone che ci sono perché dalle più importanti alle meno sono tutte persone speciali. Comunque hanno realizzato cose con tutta la loro forza e ce l'hanno messa veramente tutta. La serata include diversi ospiti intercalata anche con parti musicali comunque per rendere la serata leggera e nello stesso tempo con un filo comunque molto importante sotto dedicato ai giovani. Dedicato ai giovani perché comunque abbiamo pensato di far capire, speriamo, meglio ai nostri ragazzi quanto sia importante il valore di ciò che hanno, della loro salute, della loro fortuna, del fatto che sono liberi di fare un po' tutto. Principalmente ci sarà la nostra madrina della serata che è Giorgia Righi, è un nostro elemento della Proloco ma è anche una ragazza piena di vitalità presente a questa serata e ci saranno degli sportivi paraolimpici molto validi, giornaliste, persone dello spettacolo, quindi un po' tutto. Quello che ci ha fatto scattare un po' la molla per realizzare questa serata che poi si spera che sia la prima perché la vogliamo un po' riproporre magari quando non avremo più tutte queste restrizioni e quindi anche potendo far venire più gente, proprio pensando ai giovani come prima cosa, visto che la Proloco ha un gruppo di ragazzi che partono dai 14 anni e arrivano ai 19, su di loro è stata un po' pensata la cosa, pensando a come fargli valorizzare le cose che hanno, il loro futuro, le possibilità che attualmente possono giocarsi per avere il meglio dalla vita comunque. Quindi partendo da questa cosa e anche un pochino, speriamo, facendo nascere loro la consapevolezza di quanto è importante non avere problemi. Com'è possibile per notarsi quindi? Nella nostra locandina, che gira su tutti i siti social, praticamente su social e televisione, c'è un numero di prenotazione inerente ad una persona che è Giulia. Questo evento nasce in un anno particolare anche per il Gallo di Petriano perché appunto quest'anno non è stato realizzato il Festival del Gallo d'Oro. Esatto, quest'anno purtroppo abbiamo dovuto bypassare la nostra manifestazione Canora che quest'anno raggiungeva la sua cinquantesima edizione. Era un'edizione un po' troppo importante per forse realizzarla in un breve tempo che a noi non è concesso perché comunque è un festival che richiede un anno di lavoro. Però speriamo di poterci preparare per l'anno successivo. Speriamo perché comunque ogni cosa è limitata e restrittiva alle varie problematiche del momento. Quindi ogni cosa va presa a breve e quindi non sappiamo ancora in che modo riusciamo a realizzare eventualmente il Gallo d'Oro il prossimo anno. E allora vi aspettiamo tutti venerdì sera alle ore 21 presso il Centro Civico del Gallo di Petriano per questa serata speciale. Vi attendo, vi aspetto, sarà davvero un momento importante di riflessione. E ancora andiamo avanti con gli appuntamenti perché è stata inaugurata nella sede della Confcommercio di Pesaro Urbino la mostra personale del pittore Renato Arzeni che sarà visitabile fino al prossimo 20 ottobre. Periodicamente nella hall di Confcommercio presentiamo degli artisti e diamo questi spazi non spazi. In fondo questa è la casa dell'impresa, la casa dove si ragiona spesso di economia ma a noi piace pensare a questi spazi come luogo della cultura e quindi diamo l'opportunità di presentare artisti, pittori. Recentemente abbiamo presentato una nuova scultura di Leonardo Nobili, un altro artista pesarese molto noto e famoso mentre con Renato Arzeni diciamo che c'è una frequentazione ormai da alcuni anni nel senso che già in altre occasioni abbiamo voluto ospitare alcune sue opere. Renato è un artista che a me personalmente ma a noi piace molto io stesso ho chiesto a Renato di farmi alcune opere per la mia, chiamiamola collezione privata ma è un artista che amo molto perché i suoi ritratti, la sua voglia di rappresentare il bello ma anche la sofferenza, l'anima umana è veramente straordinaria per cui pensiamo che le sue opere possano piacere molto come già sta accadendo alle persone che abbiamo invitato a questa inaugurazione che rimarrà aperta fino al 20 ottobre qui nella sede di ConfCommercio. Ho iniziato a dipingere dal 2007 e queste che sono esposte presso la ConfCommercio di Pesaro sono le ultime produzioni. La tipologia di quadri sono ultimamente solo ritrattistica ma mi piace anche riprodurre quadri di pittori famosi dell'Ottocento per cercare di emozionarmi come presumo abbiano avuto la fortuna loro di emozionarsi mentre dipingevano. Quindi parto anche dal Caravaggio, da alcuni pittori fiamminghi, pittori olandesi e così. E più ritrattistica locale di miei vicini di casa, di amici e via di seguito. Grazie a tutti. Ci saranno tra l'altro i Camillas e quindi non perdetevi questo divertente appuntamento con loro alle ore 21.15. Adesso per voi c'è il meteo per vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Vi ricordo la nostra rassegna stampa domani mattina alle 7.20 puntuali. Vi aspetto.